Antonelli, sono giorni importanti questi per il futuro dell'ACA. Il 26 settembre scadrà il termine per il bando per quanto concerne la nuova governance del consorzio acquedottistico. Dopo la prima seduta andata a vuoto, cosa ci si può attendere, cosa ci si può aspettare? Innanzitutto io mi auguro che ci sia il ripristino della legalità, che la si smetta per esempio di ipotizzare un nuovo consiglio di amministrazione composta da tre persone per occupare più poltrone, per spendere più soldi pubblici. Noi siamo per la figura dell'amministratore unico, un tecnico bravo, capace, competente, che non distrugga e non rovini il lavoro svolto in modo molto positivo dall'avvocato Ibaldassarri nei tre anni precedenti, quando ha salvato la società dal fallimento come ormai è noto a tutti. Per quanto riguarda i sindaci che fanno riferimento al centro-destra, la posizione era e resta questa. Qualcuno ha gridato all'inciucio tra una parte del centro-destra e una parte del centro-sinistra? Io credo che invece si tratti esclusivamente di ragionare sulle cose. Innanzitutto parliamo di sindaci, che prima che essere esponenti di partito, sono sindaci, primi cittadini dei rispettivi comuni e devono salvaguardare il bene primario che è quello dei loro comuni e delle comunità amministrate. E quindi è del tutto normale, il centro-destra con i propri sindaci non ha la maggioranza dentro l'assemblea di ACA. Già l'avvocato Ibaldassarri nel 2013 fu eletto anche da sindaci del PD, ma secondo me questo è un fatto positivo, non è un inciucio. Il problema è che oggi il PD invece lì si fa un inciucio con una parte del centro-destra, con il nuovo centro-destra, con coloro i quali fanno riferimento al sottosegretario Chiavaroli. Quello sia un vero inciucio che andrebbe spiegato alla città di Pescara e a tutti i comuni interessati. Cioè per quale ragione D'Alfonso e la Chiavaroli si mettono d'accordo per occupare più poltrone, spendere più denaro e rimettere l'ACA nelle condizioni in cui versava fino al 2013. Questa è la vera risposta che loro dovrebbero dare, il governatore della regione Abruzzo, il sottosegretario della giustizia Federica Chiavaroli.